. Mercato Juventus, quattro possibili obiettivi per sostituire Dybala. Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paolo Dybala al termine della stagione. . L'attaccante bianconero, seppur in gol nell'ultima partita disputata contro il Frosinone, non sta sicuramente offrendo delle prestazioni in linea con le sue potenzialità, dal momento che sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Dybala, dunque, potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. . Il suo cartellino è valutato dalla dirigenza bianconera tra i 100 e i 130 milioni di euro. Su di lui è sicuramente molto forte l'interesse dell'Inter. . Marotta lo stima moltissimo sin dai tempi del Palermo e vorrebbe metterlo al centro della rifondazione interista che molto probabilmente partirà nella prossima stagione, il futuro di Mauro Icardi sembra molto lontano dal club nerazzurro, alla luce dei recenti fatti. . Da sottolineare anche l'interesse di Manchester United e Real Madrid, club che sarebbero disposti a mettere sul piatto delle cifre molto alte per garantirsi il cartellino del fortissimo attaccante bianconero. . Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Mirror, infatti, i Red Devils avrebbero intenzione di mettere sul mercato Lukaku pur di arrivare alla gioia. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus. Mercato Juventus, Icardi potrebbe essere il sostituto di Dybala. . Se dovesse partire Paolo Dybala, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Mauro Icardi. Dopo il caos accaduto in casa nerazzurra, infatti, Andrea Agnelli avrebbe telefonato a Javier Zanetti e anche Fabio Paratici non ha mai nascosto il suo interesse verso l'attaccante nerazzurro, che in questo momento pare essere molto lontano dall'Inter. Per Allegri sarebbe una sfida molto stimolante riuscire a far convivere l'attaccante argentino con Cristiano Ronaldo. Per i possibili sostituti di Dybala, comunque, si sono fatti anche altri tre nomi. . Il primo è quello di Salah, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Liverpool e che viene valutato almeno 200 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Arizen, talentuoso trequartista di proprietà del Tottenham, valutato circa 70 milioni di euro. Il terzo nome fa sognare i tifosi bianconeri, perché è quello di Mbappé del Paris Saint-Germain, certamente uno dei giocatori più forti al mondo. Il club francese potrebbe essere costretto a venderlo a causa del fireplay finanziario. .